Più votati e grandi esclusi, il gioco delle preferenze promuove volti conosciuti in città ma lascia fuori anche i cosiddetti VIP. Ancora una volta il recordman di voti è il vice sindaco uscente Andrea Michalizzi del Partito Democratico, in assoluto il più votato di tutti con 2811 preferenze. Un dato bellissimo che mette tanta gioia anzitutto ma anche il senso di responsabilità perché sono contento che molta gente abbia sostenuto il mio progetto con Sergio Giordani e quindi questo ci impone di tornare dalla campagna elettorale dove è stata davvero un'esperienza straordinaria fatta di incontri, di tante persone che ci hanno raccontato tante cose, dei problemi ad ispirazione di questa città, è stato davvero un grande carburante per ripartire per i prossimi 5 anni. L'altra cosa a cui penso sono i tanti cittadini che non hanno votato e io penso che la città è anche la loro e questa amministrazione ha il compito di riconnettersi sempre di più con il tessuto. Dobbiamo parlare anche alle loro idee, ai loro problemi e riuscire a dare risposte anche a chi non si è sentito, che sono tanti, di andare a votare. Dopo Michalizzi la più votata è stata la collega di partito Margherita Colonnello con 1274 preferenze e poi l'ex assessore alla cultura Andrea Colasio con 1072 preferenze. Quasi mille preferenze per l'ex assessore al sociale Marta Nalin con coalizione civica, oltre 800 preferenze per gli ex assessori Antonio Bressa e Cristina Piva del PD e Chiara Gallani di coalizione civica. Per l'opposizione la più votata è stata Eleonora Mosco in quota Lega con 671 preferenze. Tra i grandi esclusi dal consiglio comunale l'ex campione di rugby Mauro Bergamasco che si ferma a 152 preferenze e l'ex presidente del calcio Padova Roberto Bonetto con solo 94. Appena 22 preferenze per Giulio Crisanti di coalizione civica, figlio del noto virologo. Esclusa anche la passionaria della Lega, Vanda Pellizzari, in bilico Alain Luciani. Flop anche per Camilla Cassandro, la giovane atleta e donna avventura in lista con Peguin, appena 31 preferenze. Quattro voti per Sara Piccione, influencer con 5.000 contatti su TikTok e Instagram che però non le sono serviti per entrare in politica.